Che quando ti sei trovato in negozio da me, io ho delle fotografie con mio figlio, tante fotografie di me e Samu, e tu mi hai detto che ti sei visto lì, tra quelle foto, tra me, mio figlio e tuo figlio. Mi sono visto dietro alla cassa perché io non sono buono col phon. E tu mi posso mettere in cassa? Senti, so che c'è stato un bacio, però. Sì. Ah, beh, sì. E non lo dite. No, no, aspetta, adesso lo dicevo. Vabbè, vabbè, però. No, nel senso, ieri dopo il ristorante, ovviamente, Castel Gandolfo, la passeggiata sopra dove si vede sia il riflesso, io ho fatto vedere il riflesso di Castel Gandolfo sul lago, e si vede anche tutta Roma. Io poi a un certo punto ho visto, lì c'è s'andava, c'è il muretto, e allora ho detto scendiamo, e lei si è messa, l'ho fatta sedere, io di spalle a Roma, lei si è seduta in braccia a me. Ovviamente, Maria, guardi quel panorama, sto fustacchione, ma come fai a non baciarlo? Grazie.